Ciao a tutti, come già vi ho detto noi sono Alessandro Migliucci, faccio il CTO a Vitra.com che è un software SaaS di e-commerce e lì mi occupo trasversamente di tutto quello che è necessario fare insieme ai miei colleghi, quindi dalle configurazioni di Mongo all'estetica dei componenti realti. Lavorando in una start-up è la normalità, chi di voi ci lavora lo saprà bene. Alcuni di voi già mi conoscono perché ho fatto anche altri interventi prima di questo qui a Roma AGS e questo qui in particolare non era previsto fino a giovedì scorso quando Matteo ha trasformato un mio potrei parlare di questo in una chiamata stile mattarella o forse stile padrino. Fatto sta che in nessuno dei due casi si può rifiutare. Quindi oggi parleremo di continuous integration e iniziamo subito. Iniziamo subito, probabilmente nel peggiore di modi, cioè con una definizione, proprio come nelle sonnolente lezioni pomeridiane universitarie di calcolo. Se siete positivi la potreste vedere come un momento fauleriano, perché qualsiasi cosa alla fine l'ha definita anche lui. Comunque la nostra definizione di continuous integration è molto semplice, cioè è una pratica nella quale gli sviluppatori internano il loro lavoro di frequente almeno una volta al giorno. Un'interazione è verificata da una build automatica che include ovviamente i test in modo da individuare velocemente gli errori di integrazione, cioè i malfunzionamenti che non devono esserci, il più velocemente possibile. Mentre leggevo questa definizione, cioè mentre la scrivevo in realtà per la presentazione, mi sono ricordato che anche io, senza saperlo, nei miei primi amadori lavori molti anni fa, usavo già la continuous integration. Infatti, senza saperlo, già lavoravo con le moderne start-up. Rilascio i continui, cioè ogni riga del mio codice arrivava direttamente dal mio editor sul server ed era subito disponibile per tutti. Gli utenti sono i tester e quindi l'integrazione continua, ce l'abbiamo, quindi loro ci dicono se è ok o non ok. E soprattutto, come nel mio start-up, ogni bug è sempre una funzionalità. Ora, questa cosa ovviamente è solo per farci ridere e riflettere un po', però, se non lo sapete, Stack Overflow utilizza esattamente una tecnica simile, cioè tutti i loro siti meta sono in realtà il sistema di continuous integration e di assicurazione della qualità. Comunque, torniamo realmente a parlare di continuous integration e guardando la cosa in modo un po' più serio, l'integrazione è quella azione che facciamo noi ogni volta, che uniamo, cioè facciamo il merge, le nostre modifiche, a ramo principale di sviluppo, utilizzando Feature Branch, PR o altro, poco importa. Parliamo di ramo perché ovviamente sempre di grafi parliamo, essendo Git poco più di un grafo con un'interfaccia testuale per modificarlo. E più tempo lavoriamo separati dal ramo principale, più lunga sarà la fase di integrazione, cioè riportare tutte le nostre modifiche sul principale e renderlo funzionante. Questo perché se lavoriamo ovviamente in gruppo, perché da soli diciamo che il problema si verifica difficilmente, è molto probabile che nel mentre noi siamo sul nostro ramo di sviluppo, il ramo principale è andato avanti e sono state fatte altre modifiche più e più volte. Quindi la base da cui siamo partiti e su cui abbiamo lavorato non è più la stessa. E c'è stato uno sviluppo parallelo. E parallelo nel mondo del software è una parola che di solito è molto pericolosa. Una cosa ovvia, che però sono sicuro non essere per nulla scontata, soprattutto per chi è alle prime armi, è che gli algoritmi di DIF, su cui poi si basa il merge, che stanno alla base dei moderni sistemi di revisione, di gestione della revisione delle modifiche, cioè Git, Mercurial e gli altri, non fanno un controllo semantico, ma solo logico a livello temporale e diciamo a livello di testo, di caratteri. Quindi se anche il nostro Git ci dice che il merge è ok, non vuol dire necessariamente che la build è ok. E build ok non vuol dire necessariamente che le funzioni da si comportano esattamente come vogliamo noi. Per farvi un esempio, anche se abbiamo una semantica corretta, quindi la build è ok, potrebbe poi non funzionare comunque come vogliamo il sistema. Cioè, while true è semanticamente corretto, ma il risultato non è quello che esattamente vogliamo. E quest'idea, che oggi ci sembra così scontata della continuous integration, in realtà non è così vecchia come possiamo pensare. Infatti viene soltanto all'inizio degli anni 90 la prima idea che è stata enunciata, ma è solo poi alla fine degli anni 90 dai padri dell'Extreme Programming, che sono questi tre qui sopra, che l'hanno portata appunto all'estremo, ma anche al suo massimo beneficio per noi, cioè a integrare sempre di continuo per valutare lo stato dell'applicazione. E loro tre ovviamente sono da sinistra, Cat Beckeron, Jeffries e Ward Cunningham, che sono i tre creatori appunto dell'Extreme Programming. Qui una piccola parentesi polemica. Purtroppo oggi l'Extreme Programming si utilizza poco, se non pochissimo, e si prediligono metodi chiamati agili, che però confronto all'Extreme Programming sono nulla, che però sono più gestibili e comprensibili ovviamente dai manager, o le due classiche settimane, cioè Scrum, oppure il prima possibile, cioè Kanban. Ma nessuna delle due si occupa mai di decidere il giusto tempo che è necessario per fare le cose correttamente. E questo perché ovviamente non si vuole mai lasciare pieno potere agli sviluppatori, come nel caso dell'Extreme Programming. E questi qui ovviamente vengono relegati quasi a semplici operai del codice. Saludiamo Matteo. Tornando al discorso di continuous integration, il primo software dedicato a fare questa cosa qui viene creato proprio da loro all'inizio del 2000 e si chiama Cruise Control. Probabilmente l'avete sentito nominare perché è citato spessissimo nei libri teorici delle metodologie di sviluppo. Il suo funzionamento è comparabile a quello dei moderni sistemi di continuous integration. Dopo di lui, diciamo, ne sono nati Yavvalanga, il primo tra tutti, che ancora è tra noi, che è Hudson, che poi è diventato Jenkins, e un'infinità di quelli commerciali. Quindi, continuous integration, dopo che questi pionieri hanno creato il concetto e l'hanno portato al suo splendore, nel tempo sono nate altre metodologie parallele o comunque legate alla continuous integration, e il senso stesso, diciamo, originario della parola è un po' sfumato. Infatti oggi, quando noi parliamo di continuous integration, quasi sempre intendiamo continuous integration più continuous delivery. In più, a, diciamo, aumentare l'ambiguità degli acronimi, c'è anche il continuous deployment, che è un'altra cosa ancora. Quindi cerchiamo di capire quali sono le differenze fra questi tre. La continuous integration è, quindi, come abbiamo detto, il fatto di eseguire dei test e verificare che la build vada ok per il tuo software, e anche eseguire dei test. Quindi, con la build vediamo che semanticamente il codice è corretto, con i test invece facciamo la verifica funzionale e ci dovrebbero dire che il software si comporta esattamente come abbiamo previsto. e solitamente al termine della continuous integration viene prodotto un artefatto che è quello che fa parte, che, diciamo, finisce nella continuous delivery. Cioè, se il test va bene, l'oggetto su cui eseguiti i test viene messo dentro un repository di artefatti, e questi possono essere dei jar, degli xe, dei zip, delle immagini docker, quello che volete. L'importante è che sia qualcosa di rilasciabile. E, appunto, il passo successivo, che però è proprio un mondo a parte, è la parte di deployment o continuous deployment. Qui si fa, ovviamente, in tanti modi, da quella manuale che segue le regole che vogliamo, che però si tratta proprio di scambiare semplicemente la versione, a tecniche più raffinate, ma naturalmente più complesse da utilizzare, come Canary Blue Green Deployment e Rolling Release. Naturalmente queste qui ora non le approfondiamo, non le approfondiamo perché è proprio un mondo a parte che richiede comunque un'altra presentazione. La cosa importante però è che la continuous integration abilita la continuous delivery, che a sua volta abilita continuous deployment. È possibile, in teoria, fare senza qualche pezzo, ma in realtà è solo quando vengono messe in fila che sia il massimo beneficio. E la parte di continuous deployment, come dicevo, è quella più complicata perché dipende tanto da come scriviamo e da come è la struttura delle nostre applicazioni. E in più, così semplici sono di mezzo migrazioni database e cose più, diciamo, complicate della semplice esecuzione dei test e della verifica che può essere statica del codice. Ora che abbiamo più chiaro, diciamo, qual è l'oggetto di quello di cui stiamo parlando, arriviamo al problema che avevo io e da cui è nata questa presentazione. Era il 2016 e stavamo iniziando a prototipare le prime versioni, a fare i primi esperimenti per il progetto che sarebbe diventato poi l'azienda per cui lavoro adesso o ancora oggi. All'epoca era poco più di un gioco part-time. Avendo tale libertà nelle scienze tecnologiche, decisi di seguire un'idea che all'epoca non era ancora così popolare come oggi, che oggi, dal mio punto di vista, è quasi scontata, cioè quella di fare in modo che qualsiasi cosa doveva essere eseguita, doveva stare dentro un container docker. Cioè, se non stai in un container docker, non la vogliamo manipolare. E questa qui era in realtà non solo una volontà, ma in pratica anche una necessità, vista l'architettura che immaginavamo, cioè dove molti servizi di varie dimensioni collaboravano tra loro per lo stesso scopo, cioè fornire le funzionalità. E soprattutto gestiti da poche persone. Quindi, all'inizio del progetto, più che nel classico verde prato in cui si iniziano i progetti, mi ritrovai in un freddo oceano con questa grossa magile balena che per quanto già conoscessi abbastanza bene, qualche problema me l'ha creato. Primo fra tutti, e arriviamo al punto, trovare una soluzione di continuous integration che supportasse docker nativamente, e lo supportasse in modo ottimale. Perché se ovviamente docker doveva essere il centro di tutto, la continuous integration era la base su cui far poggiare questo tutto e non era qualcosa a cui volevo rinunciare. Per farvi comprendere meglio il problema, facciamo un altro passo indietro. Python 2013. In una sessione di poco più di 5 minuti, Solomon Hicks mostra questo piccolo progetto a cui stavo lavorando con un pugno di persone che consisteva in alcuni script in Python che permettevano di gestire i container Linux in modo semplice, con interfaccia standard. Questo video secondo me è veramente storico e rappresenta un po' una sorta di spartiacco nel mondo del software. Anche se alla fine poi si trattava solo di script in Python che andavano solo a fare un po' di user experience più bella su roba esistente. Degna di nota, vi consiglio quindi di vederlo, è la fine del video, dove Solomon Hicks viene proprio anche tagliato perché aveva superato i 5 minuti a disposizione. Nonostante questa qui probabilmente sia la più importante tecnologia che è nata negli ultimi decenni per l'impatto che ha avuto. Può essere vero, può essere probabile, in ogni caso è sempre, secondo me, bello poter vedere il passato dal futuro e riderne. Mentre per provare questa presentazione mi sono anche chiesto ma da quando è che utilizzo io Docker? Ok, questo qui è il 22 marzo 2013. Così sono andato a cercare dentro le mie mail e ho trovato questo, possiamo chiamare, reperto, da notare ovviamente la variante italiana di questo verbo inglese che già circolava nel 2013 all'interno della lingua insieme a tanti altri. E mi sono ricordato che la mia esperienza con Docker è iniziata grazie ad un mio amico che era ossessionato da Python e che qualsiasi cosa usciva fuori fatta in Python doveva per forza provarla. Allora ovviamente era ancora un software server e aveva bisogno di un ambiente molto specifico per funzionare. L'incontro con Docker però fu comunque forte per me e iniziai quindi a leggere tutto l'esistente cioè pochissimo per documentarmi e studiarlo meglio a studiarlo meglio e cercare anche di lavorarci il più possibile. Vi mostro questo qui ovviamente non per aprire il mio album di ricordi ma per farvi capire le tempistiche e l'impatto che Docker generò non solo su di me ma su tutto il mondo del software e che divenne ben presto completamente interessato a Docker fino a diventare quasi un'ossessione. E diciamo da questo momento secondo me è iniziata quella che possiamo chiamare un po' la corsa a Docker. Infatti tutte le aziende che offriano strumenti di sviluppo o per lo sviluppo hanno iniziato a supportarlo o a cercare di supportarlo in qualche modo. Quindi dall'esecuzione dei container alla creazione vera e propria delle immagini quindi diciamo le build. E pensare che società come per esempio i Roku avevano fondato la loro fortuna sulla complessità degli ambienti e la diversità degli ambienti di esecuzione del software. Ma l'impatto di Docker in questi sistemi quindi qui per esempio vediamo un'email di Codeship che è un famoso sistema di continuous integration era troppo grande per essere fatta velocemente perché Docker non poteva essere aggiunto come gli altri ambienti. sia per il suo impatto positivo cioè meno ambienti da mantenere sia quello negativo cioè è troppo complicato supportarlo parallelamente agli altri. Infatti in questa corsa alcuni ebbero più problemi di altri e le tempistiche non furono così brevi e gli utenti dei principali software di consulzione integration commerciali si ritrovarono in difficoltà. Ora in questo caso il cliente è un gatto però tra l'altro oggi è la giornata dei gatti quindi facciamogli gli auguri. Si trovava in difficoltà soprattutto dalle continue modifiche che venivano fatte anche a Docker stesso visto che stava nello sviluppo diciamo iniziale e pieno. E la corsa a questi diciamo al supporto di Docker finì solo quando questi strumenti raggiunsero diciamo una vera versione successiva. Se non ricordo male proprio CircleCI rilasciò dopo non mi ricordo se 2016-2017 forse una versione completamente nuova del suo sistema proprio stravolgendo il meccanismo di funzionamento. E questi sistemi diciamo di nuova generazione erano fortemente integrati con Docker e addirittura in alcuni casi Docker era la scelta di default e tutto il resto quasi un'eccezione. C'era però chi già stava avanti come per esempio Tutum che era una start-up con un innovativo prodotto di un cloud per creare e orchestrare container Docker in modo completamente gestito e tutto attraverso un'interfaccia web molto semplice. Il progetto era talmente diciamo interessante e forte che ben presto Docker Inc cioè la società che sta dietro a Docker fece shopping e si portò tutto a casa. E per un paio d'anni questa qui è stata la mia prima scelta per avere una continuous integration di immagini di comunque software che dovevano fornire immagini Docker perché funzionava in modo semplice e con una convenzione standard quindi non era necessario fare grosse configurazioni ma tutto avveniva diciamo by convention. E come funzionava e come in realtà funziona ancora oggi se utilizzate per esempio le automated build di Docker Hub? Fate un push quindi un commit su un certo branch del vostro repository che ovviamente è collegato questo qui scatena un evento che viene ricevuto dal server di Docker Hub viene avviata la build dell'immagine quindi all'interno del vostro repository ovviamente deve esserci anche un file un Docker file se la build è ok viene anche eseguito un file che si chiama docker-compose.test che scritto sempre da voi è presente sempre dentro il vostro repository dove dentro potete costruirci l'esecuzione più complessa possibile che potete immaginare per i vostri il test per il vostro software. e lo stesso risultato poi ce l'abbiamo sulla parte di continuous delivery quindi al completamento dei test e alla build positiva vengono messi su Docker Hub delle immagini con il nome del repository e con tag il nome della branch oppure il nome del tag quello di git e nel caso della PR sempre il nome del branch quindi in automatico avviene questa mappatura e questo delivery di immagini da cui poi potete attaccarci altri pezzi e fare continuous deployment o quello che è quello che vi pare. Tutto molto bello ma come ogni cosa bella ha sempre un momento drammatico infatti ho usato questo sistema per diverso tempo per quasi due anni quando poi sono arrivato all'inizio del 2018 cioè in realtà già dal 2017 ho iniziato ad avere parecchi problemi perché ho iniziato ad usarlo in maniera più pesante con molti repository a ritmo sostenuto sono iniziati problemi tempi delle build lunghe affidabilità molto bassa e molto spesso addirittura queste build rimanevano bloccate e non si poteva andare avanti perché non c'era modo di sbloccarle e non si poteva saltare la coda addirittura in certe situazioni bisognava aspettare che scadesse il timeout che a un certo punto hanno impostato a quattro ore ma mi ricordo bene che ci furono dei casi in cui questo timeout era ignoto anche agli stessi sviluppatori se cercate se scavate dentro i forum di token probabilmente riuscite a trovare queste cose perché mi ricordo che stavano scritte lì dentro perché lì si faceva l'assistenza e dato che la velocità e la certezza delle build è un aspetto fondamentale della continuous integration questa non poteva essere la normalità infatti oltre questo qui ho raccolto qualche altra immagine per farvi capire il tipo di problemi e il quantitativo che comunque da quanto ho visto adesso è arrivato fino ad oggi quindi dato che la situazione non era ok ho detto va bene cerchiamo una soluzione quindi ho preso tutto quello che serviva e che avevo e che quindi mi volevo raggiungere per fare un mio server di continuous integration che funzionasse esattamente come quello che stavo già utilizzando e la spinta forte è stata la grossa insoddisfazione e frustrazione con quello che utilizzavo ovviamente oltre gli altri vari ingredienti ora stiamo esattamente credo più o meno a metà del tempo che ho quindi basta diciamo chiacchiere e passiamo alla parte di codice ok da dove sono partito sono partito cercando ovviamente su google come fare un server di continuous integration che è collegato a github ho trovato questa documentazione su github che racconta in modo anche molto interessante come collegarsi alle loro api per fare un server di continuous integration e più sotto qui ovviamente è tagliata però se cercate questa pagina lo potete leggere tutto ci ha descritto il processo che hanno utilizzato loro per moltissimi anni di continuous integration che era poco più di uno script quindi poco più di quello che vi farò vedere io anche tra poco tutto questo qui diciamo questo punto di estensione di github è permesso sì dalle sue api ma soprattutto grazie a queste api qui che è quella delle status api che ora di recente un anno poco più forse sono state diciamo un po' sorpassate dalle checks api che sono quelle che attualmente vedete quando fate continuous integration o comunque collegate dei sistemi che vi dicono se la vostra build è ok o no le status api erano più semplici però fanno praticamente la stessa cosa quindi vi dicono pending ok non ok e il codice di partenza che c'è attualmente ancora su quella pagina lì quindi nella documentazione di github è questo qui quindi è della roba in ruby e si parte da ricevere gli eventi che vengono emessi da github a ogni push creazione di tag creazione di branch e altro quindi le prime due cose di cui abbiamo bisogno per fare tutto questo è poter comunicare con github quindi innanzitutto dobbiamo creare un token ovviamente quando l'ho fatto ho utilizzato un token personale perché il setup è molto più semplice che fare tutta l'applicazione ad hoc e soprattutto perché questa soluzione l'avevo pensata per esattamente il mio caso specifico e oltre questo token che è quello per comunicare con le API per richiamarle abbiamo bisogno anche di configurare un webhook quindi dire a github come chiamare noi quando si verifica uno di questi eventi ok arriviamo al codice ve lo dico questo codice l'ho scritto in un giorno e nei mesi successivi nel 2018 nei mesi successivi ho fatto solo minime modifiche e ritocchi a quello che soltanto a quello che non che non andava perché non c'avevo proprio diciamo voglia di fare ulteriore lavoro su questo perché non sapevo quanto sarebbe durato alla fine è durato molto più di quanto avevo previsto quindi il punto iniziale è questo qui quindi la ricezione dell'evento gli eventi che possiamo ricevere sono di diversi tipi e e noi qui vedremo soltanto uno perché il flusso tanto è simile per tutti che è quello di handle push ok quindi handle push significa che avete fatto avete accodato un commit a una pr o avete fatto un push di dei commit su una certa branch qualsiasi quindi questo handle riceve l'evento di github non ve lo faccio vedere perché è gigantesco e noiosissimo con dentro tutte le informazioni del commit quindi dall'id a metadati autore una marea di roba se è push gira tutta la richiesta a questo handler quindi tutti i dati se li porta dietro e questo handler attraverso una serie di funzioni diciamo smonta estrae i dati di cui abbiamo bisogno per fare la build quindi per eseguire il flusso di continuous integration e tra cui quindi l'id del commit il nome del repository il nome della branch più altre cose diciamo di contorno tra cui la configurazione necessaria per comunicare con github e quella necessaria per comunicare con per fare le varie cose che faremo con docker e quelle con github e poi viene tutto alla fine viene richiamata questa funzione per mettere lo status sulle status API di github in pending quindi con il pallino giallo e accodare questo task su una coda ora vedremo tutto quindi ora vediamo getgithubconf e getoverconf che non sono delle cose molto semplici che restituiscono semplicemente due oggetti con dentro varie stringhe che ci serviranno poi alcune cose più diciamo esotiche tipo queste build arcs che servono soltanto per passare durante la build certi parametri a docker e getgithubconf le altre cose quindi sono informazioni proprio di base ok torniamo alla funzione quella che abbiamo visto prima questa set status pending ed enqueue quindi qui si estraggono altre informazioni quindi directory in cui eseguire la build nome del file di log varie altre cose e la cosa diciamo centrale qui è che viene richiamato attraverso un client che ho utilizzato una libreria mi sembra si chiami octonode non mi ricordo comunque una libreria per comunicare con github vengono richiamate l'api status dicendogli metti in pending e e questo qui è l'url a cui trovare il log della build una volta che è stato fatto questo quindi su github viene segnato come pending il commit viene fatto l'add nella coda quindi viene accodato questo task con tutte le informazioni che serviranno poi per proseguire se ovviamente questo codice vi spaventa o vi fa vomitare è comprensibile ve l'ho detto è stato fatto di getto in un giorno quindi andiamo avanti abbiamo quest'add sulla coda che dovrebbe essere esattamente il prossimo punto che vediamo qui vediamo questa coda questa coda è una cosa molto semplice è fatta con bull che è una libreria per costruire code su redis e in passato ne ho utilizzate altre soprattutto un'altra non mi viene il nome di automatic ma non è secondo me abbastanza stabile come questa qui quindi viene definita la coda e viene gli viene detto gli viene dato un processor che è un altro file javascript indipendente che ha dentro del codice che ora vedremo che esegue che quindi serve per processare quello che noi abbiamo accodato quindi quell'oggetto e poi qui gli diciamo cosa deve fare nel caso di completamento del del job cioè mettere lo stato del commit success e basta e diciamo qui stiamo alla fine quindi ora andiamo a vedere cosa succede durante il processamento questo qui ve lo faccio vedere spezzato perché è troppo diciamo lungo questo qui è quel file javascript che viene chiamato quindi in un contesto separato è per questo che vengono spediti tutti i dati a ogni diciamo ogni job quindi non ci sono dipendenze viene messo tutto lì dentro e questo deve essere eseguito in isolamento vengono creati vari log stream che sono cose estremamente noiose e molto complicate da far funzionare sono le cose su cui diciamo ho perso più tempo e poi viene eseguito questo comando che è clone build che è diciamo la prima parte della continuous integration cioè quella che clona da github la versione del codice da testare e esegue la build ovviamente la build in questo caso lo vedremo è quella di un docker file poi in fondo vediamo qui clone and build on close quindi quando questo comando è completato ci possono essere diversi casi se non è andato bene segnaliamo che è un errore se c'è una certa configurazione questa è un'altra funzionalità diciamo esotica che ho messo perché mi serviva per gestire alcuni casi cioè di non in cui volevo solo la build quindi saltare test e il push serviva principalmente per supportare la build di pacchetti npm quindi questa cosa è nata per uno scopo e poi ne ha fatte altre 100 ma vabbè e l'ultimo caso che è quello invece principale è quello in cui il primo comando quindi la build è ok cosa facciamo e ne eseguiamo un altro di comando qui alla quinta sesta riga vedete commands test and push quindi viene lanciato un altro comando eppure questo alla fine ha un altro controllo se tutto è andato bene se tutto è andato bene si chiama il done e quindi a cascata si risale nella catena delle chiamate su quello che fino a quella che mette lo stato di success sulle status api e invece andando in fondo viene chiamato quest'altro comando vi dicevo test and push ora dovremmo vedere questi due comandi eccolo qui il primo quello di prima clone build che chiama uno script shell che si chiama appunto clone build e l'altro che fa la stessa cosa l'unica cosa che vedete probabilmente è un po' strana è questo il terzo parametro della chiamata per eseguire sh questa funzione spawn ops che non fa nient'altro che creare un altro oggetto che sarà il contesto di esecuzione della shell questo serve lo vedremo tra pochissimo perché quindi torno un secondo indietro quindi clone build test and push ora vediamo questi dati vengono passati questo qui è lo script per fare la build fa solo una cosa cioè vabbè diciamo due cose fa il clone nella branch che abbiamo diciamo estrapolato dall'evento di kit tiriamo giù solo una branch quindi facciamo single branch utilizziamo il token per per accedere a github check out facciamo il login su su docker hub perché ci serve poi per eventualmente per fare altre cose e facciamo la build e questa build ora vedete tutti questi parametri però è una banalissima build docker quindi non fa nient'altro che è la stessa cosa che fate voi anche sui vostri computer quindi questa è la parte di build che finisce qui e come avete visto prima completato questa operazione si risale gestendo l'evento di complete dello script si risale fino a mandare l'evento a github quest'altro invece è lo script per fare la parte di test e delivery quindi si rientra nella cartella dove è stata fatta la build si lancia quindi di nuovo la convenzione il file docker compose punto test che sta dentro i repository e che ci deve essere ovviamente viene lanciata con vari parametri che servono a diciamo farlo funzionare correttamente il più importante è questo qui exit code from suit questo suit è un diciamo una nomenclatura standard nel mondo dei test che era il nome che già utilizzava anche docker hub però è una nomenclatura che non se l'ha inventato docker hub ma significa semplicemente service under test e dopo quindi l'esecuzione del compost test che restituisce alla shell l'exit code relativo al container creato chiamato suit quindi è solo quel container lì che andate solo da quel container andate a prendere l'exit code per decidere se proseguire e andare avanti quindi è lì che sta diciamo la magia se lo vogliamo chiamare così di questo meccanismo quindi se questo container suit restituisce uno status code positivo si va avanti facendo il push dell'immagine su docker hub e qui il tag dell'immagine è stato calcolato in precedenza nei vari pezzi che abbiamo visto non vi ho mostrato tantissime funzioni di supporto perché diciamo sono solo di contorno e non e non ci servono a capire il funzionamento e viene estrapolato secondo viene scusate viene creato secondo lo standard pure qui secondo la convenzione che vi ho fatto vedere nello schema prima quindi alla fine di tutto ora che siamo arrivati al fondo è chiaro che tutto si regge su degli script shell e su questo qui proprio qualche giorno fa c'è stata una discussione sempre sul sul canale di RomaJS e voglio rispondere ulteriormente all'anonimo che ha fatto questa domanda che la risposta alla sua domanda è ancora no quindi abbiamo visto come fare la build vediamo gli ultimi pezzi che servono per farlo funzionare questo qui è il docker compose che serve per lanciare tutto il sistema quindi proprio il software che l'applicazione che si occupa di fare la continuous integration e potete farlo in due modi il primo è questo qui quindi utilizzare a sua volta docker per eseguire il server di continuous integration però dovete stare attenti a una cosa c'è questa freccia gialla perché questo qui diciamo è una sorta di trucco essenziale per far funzionare tutto perché questo qui per chi non è diciamo addentrato a docker è un binding tra il file system locale e il file system diciamo vabbè virtuale quello che sta quello che vede il container docker e facendo questo questo binding permettiamo al container docker quindi che è quello che esegue il comando di docker build docker compose e altro per ogni per ogni per ogni per ogni integrazione per ogni test gli permettiamo di utilizzare direttamente l'istanza di docker esterna quindi in realtà noi utilizziamo docker esterno dall'interno di docker senza questo binding finiremmo nell'avere docker in docker che è una cosa tipo inception e che però è una cosa assolutamente da evitare perché è disastrosa a meno che non sappiate esattamente cosa fare ma vi posso garantire che docker non è stato progettato per funzionare dentro docker quindi non lo fate altrimenti invece di utilizzare docker potete anche lanciarlo come poi alla fine ho fatto io sono passato a utilizzare ipm2 per lanciarlo perché era funzionava semplicemente meglio non c'era quindi bisogno di questo compose e questo qui invece è un compose diciamo qualsiasi quindi è il file che viene utilizzato per verificare che la build sia ok quindi dentro ogni vostro repository ci deve essere un docker file che definisce la build del progetto e poi un docker compost test come questo che spiega come eseguire i test in questo caso cosa cosa succede come vedete c'è di nuovo questo qui service under test per farvi capire la storia dell'exit code prima qui c'è questo script test API di npm che eseguirà certi test quindi se i test vanno bene restituirà un valore zero positivo altrimenti negativo e quindi fallirà e a catena fallirà tutta la tutta la sequenza di build e su github verrà notificato l'errore tutta questa roba che abbiamo visto alla fine serve soltanto per avere questa cosa qui cioè questo piccolo check verde ovviamente se è andato bene e rosso se è andato male oppure pending se è appunto pending questo su un singolo commit oppure su ogni commit di una intera PR quindi con gli eventi che abbiamo visto si scatena sempre facendo click poi sul pulsante dei dettagli ora non ve lo faccio vedere perché i link non sono più attivi si accede ai log generati da ogni build quindi c'è un link specifico dove vederli dove si vede tutto il log di tutta la build quindi partendo da quelli di git iniziali fino a quelli della build di toger dei test del compose e di tutto fino a il push finale che lo vedete qui sotto esattamente del tag di cui state facendo push su docker hub ora il codice che vi ho fatto vedere ovviamente è solo una parte di tutto quello che serve ma in realtà è poco di più quello completo e se volete lo potete vedere lo potete trovare a questo indirizzo dargli un'occhiata provarlo farci la vostra startup quello che quello che volete insultarmi perché fa schifo il rischio ovviamente è sempre tutto il vostro comunque questo sistema alla fine è rimasto online dal 2018 fino a qualche mese fa quando abbiamo iniziato a dismetterlo completamente in favore delle actions di GitHub ma ha funzionato molto più di quello per cui era stato diciamo pensato in realtà non c'era un'aspettativa ma era semplicemente una sorta di esperimento ha fatto una maria di build e alla fine di tutto posso dire che ha funzionato diciamo la cosa migliore di tutto questo è che è stata una grande esperienza formativa per capire come funziona uno strumento che noi utilizziamo quotidianamente ormai ma non abbiamo la minima idea di quello che c'è dentro e l'abbiamo rimpiazzato con le actions appunto perché ormai sono molto stabili e abbastanza flessibili per farci tutto quello che vogliamo e soprattutto sono sufficientemente veloci rispetto ad altri sistemi come vi dicevo è utile fare cose di questo genere per imparare e però se lo volete fare diciamo seriamente se volete basare il vostro lavoro su questo qui i problemi da gestire o da affrontare non sono pochi non è detto che poi uno è in grado di di affrontarli e risolverli per esempio nel nostro caso la maggior parte sono stati risolti con un riavvio del servizio scusate ma quindi i problemi più comuni erano coda bloccata exit code strani la build oppure a un certo punto semplicemente abbiamo iniziato anche a farci la build di progetti react che sono dei veri mattoni e e quindi a quel punto abbiamo soltanto dovuto ingrandire la la macchina che che faceva le build quindi passare da una da 5 dollari una tipo da da 20 e e poi le altre cose abbastanza complicate da fare sono gestire il clean up del sistema quindi fare in modo che la memoria del disco siano sempre liberi che ci sia la pulizia corretta dopo ogni build e la vera difficoltà diciamo di tutto questo è quella che che qui abbiamo fatto in maniera diciamo semplice attraverso Docker cioè creare dei contesti isolati dove la build avviene oltre questo qui vediamo che volevo dirvi se c'è qualcos'altro ovviamente tra comprarlo e gestirlo diciamo attualmente è molto meglio comprarlo a meno che non avete esigenze particolari perché probabilmente non dovete nemmeno comprarlo visto che ormai è una sorta di asset che viene dato gratis con altri servizi come con GitHub GitLab alla fine tutto questo comunque sono diciamo contento non solo per diciamo tutto questo qui che ho imparato e per quello che è riuscito alla fine a fare il software per me ma sono contento diciamo oggi finalmente perché diciamo questo server non sta più online l'ho eliminato e il codice migliore come sappiamo è sempre quello che eliminiamo perché eliminando il codice non abbiamo nemmeno più i bug eliminando il server se ne è andato via tutto in qualsiasi problema fine grazie Alessandro ecco allora vado veloce su qualche domanda che sta arrivando a parte i commenti iniziali sull'extreme programming poi ti invito a leggere sul canale diretta che hai fatto scoppiare come il tuo solito un flame tra quale prima quale dopo adesso ti chiede in particolare vabbè sulle parti post refactoring le API che avevi utilizzato di GitHub dell'Action ti è capitato che fossero state deprecate visto che sono abbastanza recenti o comunque hai dovuto rischiare dei pezzi o abbastanza no le status API sono ancora mi sembra attive perché ho controllato prima probabilmente perché magari immagino che le aziende abbiano costruito integrazioni abbastanza grandi sopra magari in futuro le eliminano ma questo non lo so però al momento mi sembrano online insomma poi ti chiede tra scrittura e manutenzione quanto tempo ci hai speso e se ci sei stato tu da solo dietro questo scritto questo sistema o qualche cosa allora questo qui l'ho scritto veramente per disperazione perché con quello di Docker erano più le volte che rimanevamo bloccati e mi sono preso un giorno di ferie sono stato dalla mattina alla sera a fare soltanto questo senza prepararmi niente prima e l'obiettivo e l'obiettivo dal codice era quello di farlo funzionare non farlo bello quindi proprio diciamo in maniera decisa e dopo diciamo questo primo giorno di lavoro probabilmente credo che l'ho riuscito a vedere dei commit ci sono stato dei commit sparsi di piccole cose che sono venute fuori man mano che poi stavo online e cominciavamo a farci girare più 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 cose però niente di che ma all'epoca quindi non avevi trovato alternative diciamo esistenti da cosa è nato l'istinto di farselo sopra quelli che già c'erano 2007 2008 Jenkins è qualcosa una sorta di tabù e quindi non era escluso e quelli invece diciamo gli altri commerciali o il supporto era pessimo oppure qualcosa magari c'era ma il costo era eccessivo per me per noi Roberto dice la famosa testa bassa funziona sempre sempre il metodo che alla fine previ va bene senti sono 7.30 andiamo a chiudere ti lascio solo con un commento finale che la domanda alla fine di tutto il talk principale a parte costi benefici cosa ha imparato è stata perché non è scritto fine con qualche a paint a mano come tutte le presentazioni che sono sempre meravigliose sono rimasti delusi da un fine classico eh lo so l'ho fatto veramente di corsa purtroppo il tempo è quello che è adesso magari le prossime andrò meglio va Alessandro ti ringrazio grazie mille per essere stato con noi ciao Alessandro